La storia dei trasporti italiani passa da OM, le officine meccaniche nate a Brescia, produttrici del Leoncino che festeggiano ora i 100 anni. Una storia che passa dalla partecipazione alla prima mille miglia agli autocarri, il Leoncino appunto, ma anche il Lupetto o il Tigrotto, alle locomotive, alle autovetture. Sono rimasti tutti affezionati perché erano i primi autocarri che sono nati dopo la guerra ed erano bellissimi da vedere e da sentire. Nella sua lunga vita l'azienda ha avuto alti e bassi. Ricordo solo la crisi del 2008 che ci ha visto impegnati in maniera molto determinata nella ristrutturazione della società. Oggi andiamo molto bene, stiamo assumendo, stiamo facendo notevoli fatturati e notevole crescite in ambito produttivo. Oggi è leader nella progettazione e produzione di carrelli e elevatori, macchine da magazzino e trattori. Dal 2011 si è fusa con il gruppo tedesco Stihl mantenendo il marchio. 800 i dipendenti, 200 nello stabilimento di Leinate, 391 milioni di euro di fatturato nel 2016. Il quartier generale di Leinate, da poco rinnovato, ospita anche il museo permanente dedicato alla storia dell'azienda. Grazie.